Buono compagno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi volevo parlarvi di un film originale Netflix dal titolo Red Sea Diving ma prima mettete un bel mi piace così sulla fiducia è un'iscrizione ed ora possiamo anche iniziare. È appena uscito su Netflix questo film con l'attore Chris Evans, cioè il nostro Capitano America dei film Marvel poi abbiamo anche Michael Williams che ho visto di recente nel film When Tasty Us che ho anch'esso già recensito e addirittura Ben Kingsley, famoso per il film Shender List che poi è uno dei miei film preferiti in assoluto. Quindi con un cast del genere mi sono subito fiondato a vedermi appunto questo Red Sea Diving. Avrò sbagliato praticamente tutte le terminologie inglesi quindi perdonatemi, già ve lo dico da adesso. Comunque il film è tratto da una storia vera, in particolare racconta una delle tattiche usate per aggirare le ostilità delle varie fazioni del governo sudanese, questo tra il 1979 e il 1984. Infatti il Mossad gestiva un albergo sul Mar Rosso che era praticamente uno stratagemma efficace per trasportare rifugiati senza dare troppo nell'occhio. The Red Sea Diving Resort porta sullo schermo questa storia con fare inevitabilmente romanzato. I titoli di coda specificano che eventi e personaggi sono inventati, questo presumibilmente per motivi legali. Qui si porta in scena l'orrore del genocidio per sensibilizzare gli spettatori sull'aiuto solidale derivato dall'immigrazione. Ci sono comunque tanti parallelismi a volte nemmeno molto velati tra il protagonista di questa pellicola e Capitano America. Difatti tutte e due hanno lo stesso attore. Già dalla frase noi non lasciamo indietro nessuno riporta immediatamente alla mente il carisma ideale del supereroe. Proprio come Capitano America infatti Harry è totalmente immerso nella propria attività impedendogli del tutto di costruirsi o peggio mantenere un'adeguata vita privata se non intrecciandola con il proprio lavoro. Red Sea Diving Resort si fa apprezzare per una sceneggiatura pulita e lineare, una regia sufficientemente ancorata alla realtà ed un cast molto propositivo. Le oltre due ore di visione scorrono non senza appesantimenti narrativi inutili e insomma potevano farla durare un filino di meno. Però anche dopo aver detto tutto ciò c'è poco da fare. Red Sea Diving è un film ampiamente dimenticabile. Parte come un film di guerriglia africana, poi diventa una sorta di sequenza episodi della squadra da reclutare e poi si ritorna a temi simili iniziali. E poi succede il crollo totale. Dato che la copertura è a Red Sea Diving Resort, l'albergo abbandonato in Sudan che il governo israeliano affitta sottofazzo nome per permettere alla squadra capitanata da Chris Everton di compiere l'operazione di salvataggio, a un certo punto inevitabilmente arrivano dei turisti. Inizia così un lavoro del tutto diverso in cui agenti speciali addestrati fanno finta di essere albergatori con tanto di immersioni nel Mar Rosso, lezioni di yoga e schitarrate sulla spiaggia nel mentre l'agente viene giustiziata dal cattivo di turno. Durante il film non si ha mai davvero timore che qualcosa vada veramente storto nonostante provi a suggerirtelo. A volte ci si ritrova a tifare per i cattivi, tanto per avere un minimo di tensione e conflitto. Insomma ragazzi si poteva usare di più, purtroppo così non è stato, ma non per questo il film è da affossare, ma potete tranquillamente esimervi dal vederlo. Insomma io gli schiaffo un 6, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Se così fosse mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao